Prima di cominciare il video, se volete ricevere delle criptovalute gratis potete partecipare alla giveaway che stiamo facendo per far crescere il canale. Spiegherò quindi durante in quasi momento in questo video come partecipare, quindi guardate il video fino in fondo e buona fortuna a tutti! Siamo già fuori pericolo, ora continueremo a salire in Bitcoin, Ethereum e nei mercati delle cripto in generale. Ragazzi, questo video è importante se siete in Bitcoin, Ethereum o se avete anche altri altcoins e se state cercando di capire se Bitcoin salirà o diminuirà da questo punto o qualcosa che devo mostrarvi oggi e inoltre parleremo anche per quanto riguarda la situazione anche di Evergrande e la problematica appunto si è risolta per adesso e vi darò tutti quanti i dettagli e parleremo anche di tutte quante le monete in generale e cose che dovete sapere oggi. Quindi ragazzi, bentornati a tutti, il mio nome è Marco, parlandovi video riguardo le cripto ogni giorno, mostrandovi come fare i soldi in questo tipo di mercato. Se siete nuovi assicuratevi di iscrivervi e dietevi anche la campanella. E cominciamo subito con il prezzo quindi di Bitcoin e diciamo che quello che possiamo vedere è che da quando siamo scesi nella fascia lancione abbiamo avuto un paio di spinte verso l'alto molto molto importanti quindi diciamo che andava dal basso diciamo verso l'alto e siamo saliti di una bella percentuale la prima volta che era un 9% il che è incredibile. E poi abbiamo avuto anche quest'altra spinta ancora che era del 12% quindi la nostra tesi che questo livello sulla linea rossa nella fascia lancione avrebbe resistito si è rivelato appunto essere vera. E quindi congratulazioni a chiunque sia entrato in un trade proprio qui Ora prima di parlare appunto della situazione di Evergrande parliamo di tutti quanti gli aspetti tecnici a cui dobbiamo prestare attenzione in questo momento quindi prima di tutto i prossimi livelli di resistenza sono a 45.000 dollari e questo qua è su Bitcoin e poi 47.000 dollari e abbiamo poi anche la linea a 48.200 dollari ed infine abbiamo la resistenza più grande qua sulla fascia lancione che è a circa 50.000 dollari quindi se guardiamo anche le medie mobili per quanto riguarda Bitcoin diciamo che la situazione è questa quindi abbiamo la combinazione della media mobile da 50 giorni e quella da 100 giorni che stanno a circa 45.000 o 46.000 dollari quindi assicuratevi di guardare anche questi livelli durante la salita dovremo appunto incontrarli, dovremo superarli e invece se controlliamo invece il grafico giornaliero abbiamo anche la media mobile da 200 giorni se non erro sì, intorno ai 45.000 dollari e 500 e sarà forse appunto il livello dei 47.000 dollari quindi abbiamo la media mobile da 50 giorni e quindi abbiamo questi livelli a cui prestare attenzione potete anche vedere quanto fosse bello il livello di supporto che abbiamo avuto invece in basso sulla linea mobile da 200 giorni che anzi non era la 100 giorni la linea viola qui il che era bellissimo, un bellissimo supporto quindi siamo fuori pericolo adesso ora che abbiamo avuto questo rimbalzo sulla fascia trancione dalla linea rossa siamo fuori pericolo beh diciamo certo dobbiamo parlare appunto di Evergrande ma diciamo non solo l'analisi tecnica capiamo appunto che la fascia trancione e la linea rossa hanno fatto il loro lavoro ci hanno salvato una volta e quando siamo usciti appunto verso il basso e quando ci hanno aiutato anche a far salire il prezzo nuovamente quindi ci hanno salvato una seconda volta ma dovete anche capire che più volte scendiamo a questo livello e più debole appunto diventerà con il tempo quindi non vogliamo appunto continuare a martellare questo livello più e più volte perché ogni volta che scendiamo qua giù questo supporto sta diventando sempre più debole e comunque diciamo ha compiuto il suo dovere e ci ha salvato già due volte ma dobbiamo capire che non è probabile che si salverà e ci salverà appunto una quinta, settima, ottava volta se dovessimo riscendere quindi assicuratevi di tenere d'occhio anche questo fatto e a parte questo a proposito vorrei anche mostrarvi anche il trade appunto che ho fatto su Femex ma appunto prima di mostrare appunto il trade per quanto riguarda che ho fatto su Femex, questo trade qui vorrei parlare appunto di Evergrande perché c'è stato molto FOD qui ma abbiamo visto anche qualche rassicurazione adesso quindi la situazione è che sono stati in grado appunto di pagare la montare che avrebbero dovuto pagare oggi quindi questo ha detto al mercato delle azioni probabilmente che questo problema si risolverà da solo non siamo però ancora fuori pericolo perché per quanto vi piacerebbe dirvelo ricordate che le persone erano nel panico le persone vi dicevano di vendere tutto perché stiamo andando a zero e vi ho detto appunto che questo probabilmente non era il momento appunto di vendere Bitcoin probabilmente non dovreste vendere a livello di supporto e ora appunto che le persone stanno diventando estremamente bullish stanno anche dicendo che la situazione è completamente risolta ma non abbiamo nulla appunto di cui preoccuparci e per questo appunto vi dico di stare ancora un po' cauti perché non sappiamo come andrà a finire la questione non è ancora del tutto risolto e anche se credo che questo non porterà un enorme crollo dei mercati parlando appunto dei mercati delle criptovalute diciamo che non siamo ancora fuori pericolo ma non credo appunto che nel lungo termine nel lungo periodo questo avrà un effetto enorme su mercati in generale ma diciamo che dobbiamo ancora essere cauti riguardo a questa situazione comunque sia come sempre vitero aggiornati adesso quindi vorrei parlare un altro po' per quanto riguarda Bitcoin e anche per quanto riguarda Ethereum perché diciamo che sembrano entrambi ancora molto forti e un'altra cosa a cui dobbiamo prestare attenzione è che come vi dicevo appunto nel mio video di ieri voglio andare nel grafico settimanale e guardiamo appunto la EMA quindi diciamo porterò via tutto quanto queste informazioni in più guardiamo la EMA da 21 e ricordate come ho detto appunto ieri dobbiamo vedere un rally dobbiamo vedere un rally e dobbiamo appunto chiudere questa settimana in bellezza abbiamo ancora un paio di giorni dobbiamo chiudere questa settimana sopra la linea blu e per ora diciamo siamo sopra questa linea blu e quindi sembra buono ancora finora ma vediamo se saremo appunto in grado di mantenere il prezzo appunto sopra questa linea blu e chiudere sopra la EMA questo appunto è molto importante e vi terrò aggiornati anche per questo fatto e nel mio trade per Ethereum potete vedere questo adesso sono al 72% di profitto quasi quindi è fantastico ovviamente vi ho dato l'avviso prima voglio tornare appunto sul grafico da 4 ore per quanto riguarda Bitcoin comunque vi ho dato l'avviso che entrerò in un trade una volta che siamo scesi alla linea rossa e la fascia lanciò una 42 mila dollari e volevo aspettare che Bitcoin fosse al di sopra della linea rossa e poi ha aperto diciamo quel trade e non ho fatto un trade in Bitcoin e questo è perché appunto devo essere onesto Ethereum è sceso molto di più di Bitcoin in quanto Bitcoin è sceso di circa il 20 o il 25% mentre Ethereum in realtà è sceso invece del 33% e sto anche pensando in generale che Ethereum sia un po' sottovalutato in questo momento e che Ethereum andrà molto bene e il problema con questo è che abbiamo la fascia lancione qui per quanto riguarda Ethereum quindi non possiamo vedere abbiamo ancora la resistenza qui in queste zone abbiamo la resistenza sul bordo della fascia lancione quindi normalmente probabilmente prenderei appunto metà i profitti a circa in queste situazioni in queste zone una volta che ci avviciniamo appunto a questo livello e poi continuare con il resto fino al prossimo livello di resistenza fino ai 4000 dollari ora un trade più pulito sarebbe quello di acquistare Bitcoin a questo livello e poi tenerlo fino alla prossima fascia lancione a 50.000 dollari e ora questo significherebbe da questo punto in poi sarebbe un guadagno di circa il 20% ma con Ethereum sarebbe molto meglio quindi entrare in Ethereum e prendere profitto al punto più alto sarebbe un trade di un guadagno di circa il 40% o 400% con la leva da DCPR quindi questo era il mio processo di pensiero forse andrò a prendere la metà del profitto qui su questa linea forse lo farò immagino che lo scoprirete appunto nel video di domani o se mi seguite su Twitter probabilmente lo vi aggiorerò anche lì su Twitter ma il trade finora sta andando bene e la prossima volta che sto per entrare in un trade vi darò un avviso e ovviamente se volete unirvi a me potete anche ottenere un bonus per iniziare a fare trading anche voi stessi quindi potete anche ottenere un bonus di 1200 dollari su Femex e Femex appunto è l'exchange che sto utilizzando per questo trade e finora tutto quanto è ok per adesso i mercati tradizionali diciamo stavano parlando appunto della formazione a W per quanto riguarda i mercati tradizionali e di come avessimo bisogno appunto di superare la linea del collo proprio qui e potete vedere che la W appunto che scende e questa era una W appunto da manuale avevamo solo bisogno appunto di salire ed allora diciamo che abbiamo superato questo abbiamo fatto una bella spinta fino al prossimo livello di resistenza e quindi se siamo in grado appunto di superare la resistenza appunto qui nell'SP500 a 4420 la linea arancione potremo andare fino a 4475 dollari e che avrà molto a che fare con i mercati esatici e quello che sta succedendo anche con Evergrande e questo è qualcosa che dovremmo osservare da vicino nei prossimi due giorni adesso stop un attimo il video e vi spiego come partecipare alla giveaway per partecipare alla giveaway dovete semplicemente iscrivervi al canale e rispondere a questa domanda nella sezione dei commenti quale pensate che sarà il prezzo di ADA nel 2022 quindi ADA Cardano fatemi sapere nei commenti ed inviate il vostro portafoglio anche di Binance Smart Chain e adesso continuiamo con il video e buona fortuna a tutti e adesso parliamo di altcoins quindi alcuni altcoins di cui ho parlato recente quando ho scelto le monete tra le prime 50 in realtà questa moneta era al 27esimo posto e credo che forse qui intorno diciamo ai 20 dollari e questo penso che stia andando ancora bene se appunto i mercati stanno scendendo in generale questo è ancora aumentato diciamo del 100% da quando ho fatto quella chiamata e penso ancora che Cosmos sarà una buona moneta da tenere a lungo termine ma congratulazione a tutti quanti coloro che hanno ottenuto almeno il 100% se siete entrati appunto quando ho fatto il video su Cosmos e adesso ragazzi invece abbiamo anche un'altra moneta che sapete mi piace veramente tanto e questa moneta appunto è Rainicorn e si sta avvicinando al suo nuovo massimo storico e guadagni assolutamente enormi per Rainicorn e ancora senza sosta quindi è fantastico da vedere e si stanno solo continuando a rispettare la roadmap ed è molto carino per tutti quanti coloro che sono entrati nella moneta di Rainy e invece per tutti quelli che si sono uniti anche alla vendita pubblica appunto di BetYou allora avete fatto un enorme profitto ne ho parlato credo due settimane fa la vendita pubblica era solo diciamo a due centesimi quindi adesso avete fatto tipo un 7 o un 8 per quindi grandi congratulazioni a tutti coloro che si sono uniti a me in questa vendita e continuerò a cercare di portarvi tutte le monete sottovalutate e continuerò a fare le ricerche necessarie per cercare appunto di trovare questo tipo di monete e se l'ho apprezzata appunto come sempre ragazzi assicuratevi di iscrivervi e di attivare anche la campanella delle notifiche appunto così da non perdere questo tipo di video perché la cosa più importante appunto è la campanella delle notifiche e questo è quello che ho per voi ragazzi grazie per la visione e ci vediamo al prossimo video grazie 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 grazie